Il grande interprete di Cellino San Marco è particolarmente provato in questo periodo e nonostante avesse fatto preoccupare parecchio i fan nel marzo scorso, sembrava aver recuperato brillantemente e fosse tornato più in forma che mai. Al momento il cantante 73enne sta combattendo con un edema alle corde vocali, ovvero un rigonfiamento ai lembi muscolari delle corde vocali che gli impedisce di esibirsi, è saltato infatti il concerto che avrebbe dovuto tenere oggi 23 giugno al Perla Casino e al Nova Gorica in Slovenia e verranno cancellati tutti i suoi impegni per almeno una settimana. L'ufficio stampa del celebre interprete di Nel Sole ha fatto sapere che il concerto in Slovenia è stato rimandato a scopo puramente precauzionale, Albano si sta riprendendo in fretta e i biglietti acquistati per lo show verranno prontamente rimborsati.